Un punto aggiunto al proprio totalizzatore ma anche due lasciati ingenuamente sul cammino verso la salvezza della Vigor Trani, un pareggio che fa molto più comodo al Noicattaro capace di compiere un altro significativo passo in avanti verso la conferma della categoria già al termine della regular season. Finisce con un gol per parte al comunale di Trani, una sfida carica di significati agonistici ma al tempo stesso non particolarmente emozionante. Finisce con i padroni di casa che recriminano inevitabilmente per l'occasione persa e gli ospiti che si portano a casa un punto estremamente gratificante. Partenza a rilento per gli uomini di Giacomo Pettinicchio, le geometrie non sono quelle ammirate durante gli otto risultati utili di fila che hanno preceduto la sconfitta di sette giorni fa sempre in casa contro il Bitonto. decisamente migliore invece l'approccio dei baresi, pericolosi già poco dopo il quarto d'ora. Tenzone, ex di turno, fa il direttore d'orchestra, Salvi lavora bene dalla corsia, la difesa della Vigor va in tilt ma Fieroni da buona posizione non ne sa approfittare. Un minuto dopo altro brivido per i padroni di casa, Di Candia respinge corto sul destro di Tenzone, poi compie un autentico prodigio negando la gioia del gol a Salvi. Trani in affanno, Trani che prova a replicare su palla inattiva dal locco calcia. Tedesco prolunga una traiettoria che non impensierisce Sansonna. Provano ad alzare il livello del proprio gioco i biancazzori, troppo contratti invece nel primo quarto di partita. Pinto sulle sviluppi di un calcio d'angolo colpisce indisturbato ma Sansonna è reattivo e respinge il preludio al gol del vantaggio che arriva sempre in seguito ad una situazione proveniente da palla inattiva a sette minuti dallo scadere. Tedesco si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e da due passi non fallisce il bersaglio. 1-0 Trani, episodio dubbio. Poi prima del riposo Trotta va giù in aria ma per il direttore di gara Andrea Salamitro di Bari è tutto regolare. Ripresa che si apre con un cambio per parte. C'è Camporeale al posto di Gnoni nella vigor, c'è Guglielmi nel noi cattaro non più faliero. Uscito in barella prima dell'intervallo. Sansonna dice di no in apertura a Tedesco e tiene in partita i rossoneri che nel momento di maggiore difficoltà trovano il punto del pareggio. Salamitro giudica da rigore questo contatto in aria tra Diella e Fieroni dal dischetto. Calcia tenzone di Candia intuisce l'angolo ma non arriva sulla traiettoria. 1-1. Succede poco o nulla nel quarto d'ora centrale della ripresa. Poi è il Trani che spinge sull'acceleratore alla ricerca del gol vittoria. Ha solo di trotta sulla corsia Mancina ma il mio entrato Gadaleta non sa completare l'opera a dovere dalla parte opposta. È insidioso ma al tempo stesso impreciso il colpo di testa di Schittone. Di nuovo vigor. Il noi cattaro prima riesce a limitare i danni concedendo solo un corner. Successivamente, proprio sugli sviluppi dell'angolo, viene salvato dalla parte alta della traversa scheggiata nell'occasione da Tedesco. I biancazzurri non si rassegnano al pareggio e continuano a crederci sino al termine l'uomo più pericoloso della vigor e indiscutibilmente tedesco che ci prova addirittura in acrobazia. Ma manca per pochi centimetri quello che sarebbe stato il gol della vittoria ma anche la prodezza balistica più bella dell'anno. Finisce così 1-1 al comunale. Morale della favola. Noi cattaro contento. Trani invece no.